Bene, bene, carissimo Alessandro, Italia 04, Vittor, qui in Sierra, portatile, immobile e QRP, molto bene, ho fatto anche un picco di 5 sull'Esmite del mio FT991A, molto bene, posso dirti che l'ascolto è gradevole, altrettanto l'emissione credo che sia gradevole, ma non in questo momento non mi sto valorizzando, quindi credo che sia accettabile, caro Alessandro, ti ringrazio della ripresa video e saluto tutti quelli che sentiranno e vedranno questo video, qui Italia Torino 9, Università Torino Torino, il nome Gaetano, il Qtcacca e Brolo, faccio lo spelling come Bravo, Romeo, Oscar, Lima, Oscar, la provincia è Messina, si trova sulla costa di Renica tra Messina e Palermo. Bene, allora il cambio è ancora per te, Z4, Vittor, Queen, Sierra, Alessandro, Italia Torino 9, Università Torino Torino.